Erminio D'Alessandro, vicepresidente di Assonautica, porto turistico quasi inaccessibile a causa dell'insabbiamento. Cosa sta accadendo? Innanzitutto non è una novità. È la terza volta che capita in questa forma così grave. Cosa succede? Succede che per il gioco delle correnti, per come è stato posizionato l'ingresso, per tanti motivi su quali si sono dette tantissime cose, in parte vere, in parte tecniche, in parte non vere, molte chiacchiere sicuramente, quando ci sono le mareggiate il mare tende a portare della sabbia dal mare all'imbocco, non va oltre l'imbocco. Gli ultimi 100 metri, 150 metri del marina hanno oggi un pescaggio possibile di un metro e mezzo, per come si tocca. Tutte le barche a vele che hanno il bulbo di contrappeso agli alberi non sono più in grado di uscire. C'è anche, credo, un'ordinanza che vieta questo. Il problema è che non è che non ci sono le risorse, il problema è che la prassi burocratica per autorizzare lo spostamento di questa sabbia dall'imbocco del porto a riportare da dove è venuta è una prassi burocratica infinita. Nessuno si assume la responsabilità, c'è uno scarico a barili fra i valienti e chiaramente l'utenza è imbestialita. L'utenza se la prende col marino di Pescara, ma il dottor Bruno Santori, che è l'attuale dirigente, ha fatto di tutto e di più per cercare di avere questa autorizzazione. Ma il risultato, quello che conta, è che il marino è chiuso. Il rischio che potrebbe diventare concreto è quello di vedere annullate tutte le manifestazioni nazionali ed internazionali che erano in calendario al marino di Pescara. Sì, già il 27 di marzo è stata annullata la Pescara per due, che è organizzata dal circo velico La Scuffia, e è saltata perché le barche non possono uscire. Ma stanno per saltare altre due occasioni internazionali che portavano qui tantissima gente e davano visibilità alla regione Abruzzo, alla città di Pescara, al mare di Pescara. Saltano perché non possiamo garantire ovviamente a questi equipaggi l'ingresso nel porto. È una cosa veramente incredibile.